Le offerte di primavera Amazon 2024 sono finalmente arrivate e molto probabilmente avrai già visto su Instagram, YouTube, TikTok o sui social tantissimi video e contenuti in cui ti vengono mostrati alcuni dei prodotti delle offerte migliori disponibili in questi giorni su Amazon. In realtà sono sicuro che se compri abitualmente su Amazon ti sarei già accorto della festa delle offerte di primavera perché in un page un grandissimo banner ti mette in evidenza proprio la possibilità di comprare diversi prodotti con degli sconti in alcuni casi davvero interessanti. Ed in questo video anche io voglio consigliarti alcuni dei prodotti con le offerte migliori ma voglio in realtà anche suggerirti un trucco per risparmiare quindi per trovare prodotti a prezzi più bassi anche dopo i giorni della festa delle offerte di primavera e poi ancora aiutarti a capire come trovare le varie offerte ed infine spiegarti come influencer, youtuber e blogger guadagnano attraverso questi contenuti dedicati alla festa delle offerte. Se vuoi saperne di più su tutti questi argomenti mettiti comodo e guarda questo video fino alla fine. Dal 20 al 25 marzo 2024 su Amazon sono partite una serie di offerte di primavera alcune sono offerte a tempo quindi disponibili solo in alcune di queste giornate mentre altre saranno disponibili dal 20 al 25 marzo. Ed in realtà i prodotti non sono solamente legati alla primavera perché ci sono prodotti per il giardinaggio oppure per il cambio stagione ma anche prodotti tecnologici, prodotti di ogni categoria messi in offerta proprio per incentivare i consumatori ad acquistare magari anche prodotti che in realtà non ci servono. Quindi il primo consiglio ovviamente è non spendere per qualcosa che non ci serve realmente, per qualcosa che già non dovevamo acquistare. In questo modo evitiamo di cadere nella trappola delle offerte che ci fanno in realtà spendere per qualcosa di cui non abbiamo realmente bisogno. Fatta questa doverosa premessa vediamo insieme alcune delle migliori offerte che io stesso ho trovato su Amazon entrando proprio nel mio account Amazon dove ho selezionato alcuni prodotti davvero interessanti. Il primo prodotto sono queste cuffie della Sennheiser con uno sconto del 60% disponibili per 80 euro. Il secondo prodotto è la macchinetta del caffè dell'onghi perfetto Magnifica S simile in realtà alla macchinetta del caffè che io stesso ho acquistato qualche anno fa in occasione del Black Friday e di cui ho parlato in un video che ti lascio linkato qui sopra nelle schede. In questo momento, quindi durante le offerte di primavera, in sconto del 20% e quindi disponibile per 279 euro. Altra offerta super interessante è l'Apple 13 mini, disponibile anche questo in sconto su Amazon insieme a tantissimi altri prodotti Apple. In particolare potrei acquistare questo iPhone nuovo per 649 euro invece di 839. E poi ancora per chi invece vuole acquistare un televisore in 4K o un televisore da 50 pollici c'è un'offerta sulla TV iSense da 50 pollici con un 6% di sconto disponibile per 399 euro invece di 424 euro che è il prezzo più basso recente oppure il prezzo di listino di 499 euro. Di tutti questi prodotti ovviamente trovi i link in descrizione ma in realtà trovi anche il link in descrizione che ti riporta sulla pagina delle offerte Wow. Come puoi vedere da questa pagina possiamo attivare il promemoria, quindi una notifica sulle migliori offerte disponibili oppure andare ad accedere alle offerte esclusive per gli utenti Prime e poi possiamo approfittare di risparmi incredibili sui prodotti di marche popolari. Come vedi qui sotto ci sono le varie categorie con tutte le offerte. cliccando su scopri tutte le offerte possiamo vedere quelle disponibili. In realtà Amazon ci propone sia la pagina offerte Wow che la pagina con le 100 migliori offerte. Andiamo dunque ad esplorare quelle che sono secondo Amazon le migliori offerte disponibili in questo momento. Come puoi vedere anche tu in questo momento fra le offerte ci sono giochi per la Playstation 4, aspirapolveri e per ogni offerta viene indicata la percentuale di sconto. 36, 15, 18, 14 da qui effettivamente abbiamo una panoramica super rapida di quelli che sono gli sconti più interessanti su tantissimi prodotti. Detto questo vediamo l'ultima parte del video ovvero come fanno youtuber, influencer, creator, blogger a guadagnare promuovendo i contenuti delle offerte di Amazon. Ovviamente questo è possibile grazie al programma di affiliazione Amazon che è uno dei più grandi programmi di affiliate marketing al mondo che conta milioni di iscritti che guadagnano in base alle vendite che riescono a portare ad Amazon. Se non sai cos'è l'affiliate marketing o cosa sono le affiliazioni io ti lascio linkato qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione sia un video che spiega come funziona l'affiliate marketing e le affiliazioni sia un articolo dedicato proprio all'affiliazione Amazon. Per farla breve chiunque si può iscrivere al programma di affiliazione Amazon è una volta iscritto potrà creare dei link ad ogni pagina ad ogni prodotto disponibile su Amazon da condividere tramite un blog oppure tramite una stories o ancora tramite un video tramite email tramite whatsapp tramite telegram per ogni vendita che verrà generata da quel link affiliato quindi da quel link che identifica la persona che si è iscritta al programma di affiliazione Amazon ci riconoscerà una percentuale. Chi acquista tramite un link affiliato non dovrà pagare di più ma pagherà esattamente lo stesso prezzo che paga qualsiasi persona entra su Amazon ed acquista un determinato prodotto ma Amazon riconoscerà una piccola percentuale a quella persona che ha portato quella vendita proprio come se fosse stato un commerciale che è andato a vendere un prodotto per conto di Amazon. Questa ovviamente è una spiegazione molto semplificata di come funziona l'affiliazione Amazon se vuoi approfondirla trovi il link qui sotto in descrizione. Se questo video ti è piaciuto ti è stato utile io ti invito a mettere un pollice in su iscriverti al canale ed attivare la campanella per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Se hai dubbi domando se vuoi segnalare altre offerte Amazon sei come sempre il benvenuto qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo se vorrai con un nuovo video su questo canale.